Come Comune di Bologna e come Informa Giovani dove siamo adesso abbiamo lanciato un progetto che si chiama Sembianza, un progetto che parla e racconta di bullismo e cyberbullismo, un fenomeno di cui abbiamo tanto sentito parlare ma che spesso non raccontiamo in prima persona. Per questo stiamo cercando giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano voglia di raccontarci la loro esperienza in prima persona. Questo avverrà il 16 e 17 dicembre qua all'Informa Giovani del Comune di Bologna quando ci saranno le audizioni per selezionare quelle testimonianze e quei testimoni che poi andranno in scena a febbraio e a marzo al Museo del Mambo sempre di Bologna. Per cui partecipate perché il bullismo va raccontato da chi l'ha fatto o da chi l'ha subito. Vi aspettiamo, compilate il form e iscrivetevi.